È un periodo delicato, la Fortitudo è una squadra con molto talento, anche se è un po' discontinua. Non toglie il fatto che sono una buona squadra. Noi stiamo un po' faticando, stiamo combattendo con un'altra assenza per via del Covid purtroppo. Però la squadra comunque resta positiva, si sta impegnando al massimo, da partire dal coach, dallo staff, dai giocatori, per riuscire a fare una buona partita sabato. La forza di questa squadra spesso nei mesi precedenti è stata l'entusiasmo, il voler non darsi i limiti. Ora c'è una classifica che comincia ad essere incerta. È qualcosa che può condizionare? Sicuramente c'è un po' di pressione in più perché le squadre che prima erano sotto di noi sono avvicinate o ci hanno appunto ripreso. Le partite che ci restano, che sono cinque, sono tutte importantissime e delineranno poi alla fine se andare a pre-off o meno. A livello personale che finale di stagione è per Tambone? Adesso c'è una grande sfida perché quest'anno ho già dato poco premager. Adesso con l'assenza di Robison sicuramente farò più minuti da premager e dare la squadra a girare al medio il più possibile. Quindi è una bella sfida e cercherò di fare il massimo.